grandi 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 amici mitici di marco drams salt on sacrifice come mi chiamo marco drams andiamo a vedere il nome marco drams classe ramingo saggio assassino chierico guerriero duellante paladino andiamo col paladino crimine brigantaggio blasfemia incendio doloso ubriachezza contraffazione eresia lascivia contrabbando spusura vagabondaggio alchimia incendio doloso facciamo gli incendio doloso femmina maschio dei stessi siamo femmina va bene ma come è una donna ok magenta magenta ok vuoi spingerti più avanti assolutamente si allora vediamo un attimo sono condannata a che cosa per il crimine incendio doloso mi attendeva la pena definitiva del regno ma c'era un'alternativa entrare nelle schiere degli inquisitori del marchio ho bevuto il magivoro il mio carcere del condannato affronte le cittadine e ancora e che giusto sul suo lavoro troppo veloce adesso vivi solo per la caccia di maghi dare caccia ai maghi ma questo gioco uscito settimana scorsa amici miei lo portiamo in live oggi che è un po più povero cavallo è morto ma sai che gli ha preso vanguardia il paladino vabbè penso che adesso ancora troppo quadrato triangolo ah vediamo ah c'è anche la stamina amici bello in 2d 2d come quell'altro che ho portato sempre oggi eh caspita che cos'è che cos'è che ha preso minerale ah ok bello ciao mio amor ok ok ah proprio ce la vogliamo giocare bene 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 obliterated bello un boss iniziale inizialmente ma persona aveva sbagliato di te di buco di persona benessere ciao amore mio sto facendo un giochino come sei bello anche tu sei bellissima fiasca del cuore ok mi ha dato la fiasca parla vieni qui ogni giorno oppure se non pensavo il vennaggio in cui arrivano nella quantità che servirebbe di inquisitori e scompagno anche tranquilla ora fiasca del cuore sono l'erborista nessuno è abile più di me che la fiasca del cuore e le erbe ok i nomi degli dei sono usciti nelle nostre bocche quindi non mi sorprende che un ammazza maghi come te chiedevi notizie di Balak è la dea del vento curativo si può dire che un mosca e colpi malati che non è l'urna ok marchio dell'incantesimo si il marchio dell'incantesimo avresti trovato la morte in quei boschi se non fosse stato per ritrovo magivoro che hai ricevuto rito hai commesso il crimine di incendio doloso non è così? forse non ricordi ma per diventare inquisitore del marchio ti sei sottosposto al riccio magivoro ok mi ricordo ciao allora io credo e spero che non è davvero così difficile per le mani di town sei sveglia si grazie ah qui si può creare la roba magia allora non si può allora scusa tu chi sei marco dromo si io sono la campiona teoricamente sono ufficiale del comando devi parlare subito con alla volta del villaggio di cenere ok ah no qui è il cassone questo che roba è? ok fiasca aia caramba è inquisito puoi chiamarmi ben lo stalliere ah ok c'era un cassone ok quindi qua c'è lo stalliere ma non possiamo usarlo io spero che non sia così difficile bello cosa ho fatto? nuovo livello? ah addirittura bello oh beh non ho ancora niente oh potrei morire potrei morire da solo beh qua che però non siamo fuori poteva anche darmi chi sei? un gatto ciao gatto tutto chiuso tutto è chiuso tutto è chiuso minerali minerali questo sarà sarà qualcosa di particolare vuoi andare entrare nel varco sì è la custode della magia allora vediamo allora vi viaggio questa la X la X la H e la H oh raga oh raga che fidata ecco come sprecare come sprecare oh rises oh oh o o l o o o o Tanta roba si trova in giro Bang Bang Oh Ma come si prende la fiasca? Allora se qui a destra e a sinistra In giù Fa il gesto In su Dovrebbe Ah con L1 Ok Ok ho capito E qua non so neanche dove dobbiamo andare Allora il gioco Comunque è molto bello Pacevole Il gameplay è buono La grafica comunque ci sta Che cosa da fare ce ne sono Bisogna solo capire Effettivamente Se l'inizio credo che era Una cosa più che altro Come tanti giochi che ti fanno fare il boss all'inizio Ehm Porca loca Porca loca Ehm Cascone Ma allora io credo che qua Si possa andare giù Si Aia che botta Questo Oh Riposo e scorte Assolutamente Ah Sono i cosi Bello Mi ha dato le fiasche Il problema è che ci si perde Eh No Speriamo che si Facile raga Ma dai Ma dai Cacchiarola E' difficilissimo E' vero E' vero Dopo Con le 6 Eccolo qua Allora Allora No 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 Via 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 Ok Non si può Eccolo qua Allora Ok Via 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 Ah che balordo Mi ha dato Via 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 Non abbiamo fretta Non abbiamo fretta Marco No 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 Mi ha proprio fregato Dai facciamo l'ultima volta E poi ragazzi miei Continueremo il capitolo Al prossimo Al prossimo Alla prossima Alla prossima Alla prossima volta E' un'introduzione del gioco Per farvi vedere un po' com'è Ma ragazzi Ce l'ho comprato E' davvero difficile E' davvero difficile Ai 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 Mi ha chiuso dentro Ti vuoi levare Ti vuoi levare Stupido Stupidone Mi ha chiuso dentro Nell'angolo Se ti chiude nell'angolo Credo Che c'è ben poco Da fare Ah coquadrato Ok Ok Urix Collana D'orecchi C'è un bel balordo Eccolo là Che mi sbaglio I tasti Eccolo là Che mi sbaglio I tasti Eccolo che mi chiude Allora ragazzi Se sbagliate La prima volta Lui vi chiude E siete praticamente Massacrati Questo e questo Questo E' quadrato Cosa c'è di difficile da capire? Non lo so Non lo so Marco Delanzo E' un po' difficile da capire Questo e' quadrato Questo e' quadrato Dai Via via Madonna Via 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 Ho perso i tempi Ho perso i tempi Via Via E vabbè Via 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 Noo Che balordo Quando mi chiude così Via 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 No 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 Via 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 Nooo Col ginocchio Col ginocchio Dai ragazzi Lo stiamo quasi facendo Voglio eliminare questo balordo Voglio eliminare questo balordo Questo balordissimo spray Ok 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 Hai ragione tu sei cattivone Hai ragione tu sei cattivone Via Via Cazzo Non c'è verso che Via 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 Nooo Sul ginocchio Sul ginocchio Vabbè 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 Questa Questa Unip E Unip Vabbè 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì! E vai! Abbiamo finalmente sconfitto il cattivote Vanquishad e l'abbiamo fatto in pochissime volte, tipo 200. Però l'importante è che abbiamo finito il cattivone. Io potrei anche morire con la vita che ho. Spero tanto di no e spero di arrivare a un punto. No, perché ha tirato su questo schiume? Cos'è che ho preso? L'ho già trovato di inquisitore rampino. Oh, per fortuna. Il rampino come si usa? XR2. Ah, ok. Vedete ragazzi, era solo una questione. E' una questione che dovevo subloccare il rampinozzo. E quindi adesso devo entrare nel portale e salvare. Ok. Ok. Riprezzino di tutto. Scorte e tutto quanto. E torna l'accampamento. Assolutamente sì. Abbiamo fatto il primo megaboss. E con questo Marco Drums vi saluta da questo gioco fichissimo. E' tutto. E mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. E di seguire tutte le mega live che faccio su Twitch. Con un sacco di giochi, un sacco di divertimento e un sacco di amicizia. Bella lì ragazzi. Dai, ci vediamo. Alla prossima da questo megajoco. Ciao a tutti. Ciao.